In molti commenti leggiamo domande del tipo, ma come campate, come si alimenta non la casa di Quinto Potere, ma la testata giornalistica di Quinto Potere? La testata giornalistica di Quinto Potere si alimenta con i soldi dei social, in parte, diciamo che mediamente copriamo il 40% del fabbisogno mensile per portare avanti la barracca con i social, poi ci sono le pubblicità organiche, i banner che vedete, poi ci stanno i banner che vengono messi da un'agenzia, ci siamo affidati a questa agenzia che fa proprio queste cose di Milano. E per i social intendiamo YouTube e Facebook in una minima parte, perché invece Instagram e TikTok non pagano. Dica al signor sindaco di Bari che Zona Libertà fa schifo. Lo diciamo tante volte. Il mercato oratorio fa schifo, tutta la Zona Libertà fa schifo. E questi che fanno il lavaggio con la pompa non serve, ci vogliono lo spazzino come una volta. Dicevo, senti, non c'è solo il centro, il centro e poi la cosa pedonale che hanno fatto lì, Zona, Corso, Corso, l'hanno rovinato tutto, solo per fregare i soldi. La città è sporchissima, è uno schifo. Hai ragione, non è mai stata cosa inutilmente, dove ci sono le auto pancheggiate. Ci vuole l'operatore ecologico. Non si vede da me, non si vede da me, è uno schifo. Lo so, lo so, riportiamo anche questa cosa. È uno schifo. Grazie. Buon lavoro. Anche a te. Per dire semplicemente, volevamo semplicemente dire che TikTok e Instagram non pagano, e invece ci siamo presi, come spesso ci succede, i KTM di altri sulle nostre spalle. Questi erano destinati al sindaco. Sindaco, le doniamo volentieri i KTM dei cittadini baresi che è Antonio Locondo unvamon. Oh, questo non la possiamo ripetere. L'ultima, quella centrale non l'ho capita, ma quella finale l'ho capita. Anche perché erano in due sul monopattino e abbiamo quasi fermato per farci raccontare quale impresa si faccia. Ma non lo posso proprio dire, ti stavo avendo la voglia di dirlo, ma non me lo fate. E quindi non pagano proprio. E quindi poi ci sono anche dei redazionali, e non vi scandalizzate, sono dei redazionali a pagamento che vengono fatti con delle aziende che credono in ciò che facciamo nella nostra comunicazione. Spesso però succedono dei misunderstanding, quando lo dico, inauditi. anche in alcuni casi talmente gravi da rovinare rapporti persino storici. Tino mi è testimone. Vi faccio un ultimo esempio. Ma quanto vi prendete a fare i servizi? 8,10 euro a chilo. Intanto c'è un commerciale che si occupa di questa cosa, quindi abbiamo anche del materiale, brochure di tutti i tipi che vi possono raccontare quello che facciamo, come lo facciamo e quanto costa. Ma molta gente pensa che noi prendiamo soldi anche quando facciamo servizi. Sotto casa mia è successo questo, mi è capitato. Quanto volete per fare il video? Eh? No, guarda, la cronaca, l'attualità, il sociale, tutto ciò che non provoca e causa vantaggi economici alle persone, non costa nulla alle persone. Ripeti, ripeti quello che stavi dicendo prima. Poi, no, quello centrale non ho capito. No, vabbè, questo, quale che un altro ha detto? Questo non era proprio quello che ha detto prima, Tino. No, perché questo va facile, ma non era quello, non era quello, non posso dirlo. Vabbè. Torniamo a noi, vedete come anche questo crea... Sinergia. Sì, sì, sinergia tra il territorio, tra gli incivili del territorio e noi che cerchiamo di dare un po' di educazione in civiltà. Detto, batti in trombaù, ancora, questo in moto però, quello in monopattino e questo in moto. Dicevamo ancora, non costa nulla quel tipo di servizio, costa invece quando tu per esempio organizzi una festa, che ne so, della birra, ora va di moda la festa della birra. Una festa della birra, oppure un evento per cui hai messo in piedi un'attività che porta iscrizioni, quindi soldi. E allora ci chiamano, come è successo oggi, ci chiamano e ci dicono avremmo immenso piacere se riusciste a venire domenica, dalle ore tot alle ore tot, abbiamo anche il banchetto, perché siccome sanno che tu sei goloso, di moggi, stiamo da mangiare, chi sei tu, mangi, porc, così sta pagato e ce l'abbiamo. Anche perché domenica, non fa niente che è domenica, tu l'hai organizzato perché la domenica è il tuo giorno libero, e magari lo puoi fare, ma c'è anche chi sta lavorando o chi non lavora la domenica perché intanto ha lavorato 24 ore prima. E allora dice, ci farebbe molto piacere, la mia risposta ormai è sempre la stessa, è una struttura a pagamento? Certo che è una struttura a pagamento, c'è qualcuno, perché non sanno ancora quello che voglio dire, c'è qualcuno che ci guadagna? Sì, certo, anzi speriamo di guadagnarci bene. Ok, allora o ti dico brutalmente quanto devi pagare per farti pubblicità su Quinto Potere, o ti faccio chiamare e saprai le stesse cose magari in una formula diversa. A, perché si paga, ma il nostro intento non è fare pubblicità, è fare una cosa carina. Allora, tu stai chiamando, io adesso lo dico ma no perché voglio incensarmi, perché chi si loda si imbroda, no? Ma stai chiamando, non dico i numeri 1, ma quasi. No, 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 direi tu. No, quasi, quasi numeri 1, con numeri pazzeschi, interazioni e seguiti pazzeschi, visualizzazioni pazzesche per seguire l'inaugurazione della tua struttura a pagamento, ma non vuoi farti pubblicità, cioè non vuoi che la gente veda, si incuriosisca, si appassioni e venga a chiedere informazioni e magari si iscriva e faccia quello che deve fare, no? Tu vuoi far vedere la tua cosa carina. Carina per chi? Per te, per lei, per lui, per loro. Invece noi facciamo le cose carine, in questo caso, perché tu ci commissioni una campagna pubblicitaria tale da poter dare valore alla tua idea carina, che non resta un'idea carina, ma porta anche... Argent. Perché l'argent, e solo con l'argent si fa la guerra. Chiaro? Dico, no, allora no, allora no, non abbiamo, perché noi abbiamo comprato tutta l'attrezzatura, abbiamo pagato le sponsorizzate sui social, abbiamo comprato le cose per il catering, abbiamo pagato i camerieri, abbiamo pagato gli istruttori che vengono, a me tu si paga tutta questa roba e non vuoi pagare, l'unica cosa che ti dia visibilità non ti fa rimanere autocelebrativa. E allora c'è un problema e bisogna educare le persone a fare una comunicazione più incisiva, perché altrimenti vi scrivete fra di voi, la struttura la utilizzate fra di voi e nessuno saprà che c'è questa struttura, non so se rendo l'idea. Dunque, se tu ci chiami per un qualcosa che a te porta dei soldi, noi, perché questo è il nostro lavoro anche in parte, dare valore al tuo lavoro, alla tua idea, noi chiediamo una certa cifra, commisurata all'impegno che diamo alla tua idea. Pensa che è semplice, pensa che è stronzata elementare, invece uno ci prova sempre, con il banchetto, con l'idea carina che non c'è stata da nessuna parte al mondo, poi magari vai a vedere se l'è stata per tutto, ecco il fatto che il tuo non è un lavoro, tu mantieni una telecamera semplicemente, io parlo perché mi è stato dato il dono della parola come può fare chissà chi altro e dunque vieni perché vieni, l'onore è tuo a venire da me, non vostro che ci invitate e ci avete. Però avrebbero immenso piacere. Però avrebbero, fino a quando è gratis e immenso piacere. Quando si pagano, perché si pagano? No, non c'è proprio, non c'è verso. L'immenso piacere è passato. Quindi questo volevamo dirvi e condividere con voi, se ci chiamate perché c'è qualcosa che volete promuovere, quella è pubblicità, non è un'idea carina e volendo trattarla come un'idea carina, comunque resta pubblicità, promuovere un'idea carina lo si fa con la pubblicità che ha un costo su quinto potere e vi assicuro un costo molto, così come ha un costo quando fa… Hai cambiato le sponsorizzate. Bravo, c'è qualcuno che in realtà ha notato anche che siamo più efficaci delle sponsorizzate sui social e sono persone che hanno una vista lunghissima, lungimiranti, che hanno capito come va il mondo. Ma qui a sud, un secco, il naso, quello è… Non si va oltre il proprio naso e ci dispiace molto perché invece si potrebbero fare tante cose molto, molto, molto gustevoli. Mi è venuto così, mi è venuto molto gustevole. Dunque sappiate che potete contattarci anche per questo se avete capito il messaggio, vi sono quasi spaventato, per ora e solo per ora è quasi tutto dal quartiere Libertà che come avete sentito fa schifo, manco li cani.